Waiu fa freddo vero? E per riscaldarvi il cuore ci vuole una bella cioccolata calda fatta proprio a mestiere proprio Vi faccio vedere i trucchi essenziali per farla perfetta Dai facciamolo insieme e vi faccio riscaldare il cuore Partiamo prima con la sigla e poi la facciamo, dai! Buonasera, è arrivato il freddo, è arrivato l'autunno e perciò oggi voglio fare una cosa che voi da autunno o d'inverno di sicuro la desiderate E' una cosa proprio semplice e veloce da fare Oggi andiamo a fare la classica cioccolata calda, quella lì densa che si beve nella tazza Ve la mettete a tavola con la vostra famiglia, con i bambini, con vostro marito, vostra moglie Vi vedete un bel film e vi riempite il cuore pieno di amore Allora, gli ingredienti stanno qua Però ogni ricetta c'è sempre una dedica speciale Quest'oggi la facciamo la mia amica Maria Abagnale Maria, ti dedico questa ricetta perché mi hai sempre scritto belle cose nella mia pagina e sotto ogni mia ricetta E perciò ti dedico questa cioccolata bella, calda, bollente e densa Allora, per fare questa cioccolata abbiamo bisogno di Mezzo litro di latte, 120 grammi di zucchero, 30 grammi di farina 90 grammi di cacao amaro in polvere e 100 grammi di cioccolato fondente, la barretta Quello che avete Amore, cuore, passione e tanta umiltà è che se non volete ascoltare Maria, io sono pronto E tu? Allora cominciamo a faricare Guai, è semplicissimo Prendete una casseruola e metteteci già lo zucchero dentro Adesso prendete un passino con le maglie strette, strette, strette e ci passate il cacao dentro Lo andate a filtrare, lo fate proprio bello fine, fine, fine E poi dopo lo andate a mischiare con un cucchiaio Ok? Mischiate tutti e due cacao e zucchero Ma adesso riprendete di nuovo il passino e adesso ci andate a mettere la farina Fate la stessa identica cosa Passate anche la farina E poi dopo andate a mischiare piano, piano, piano Ma adesso viene il passaggio più importante per fare la cioccolata perfetta Adesso prendete il latte freddo Naturalmente un frustino Il frustino è essenziale adesso Latte freddo e ce l'andate a mettere a filo a poco alla volta Perché a poco alla volta? Perché così non si formano i grumi Viene proprio liscia, omogenea, cremosa e perfetta Adesso andate a incorporare piano piano tutto il latte Mischiando piano piano, in grazia di Dio Bello proprio Quando avete unito tutto il latte E vedete che non c'è più un grume Cioè non c'è neanche un grume Andate ad accendere il fuoco O come adesso sto facendo io con la cucina a induzione Fiamma medio alta Ma ragazzi qua adesso dovete proprio lavorare Sono dieci minuti Ma dovete sempre girare Perché altrimenti si attacca sotto Quando vedete che sta cominciando a diventare cremina Ci andate a mettere i pezzi di cioccolato fondente Ok? Adesso abbassate la fiamma E girate sempre Vedete qua che bella cremosità Magliù È uno spettacolo La fine del mondo Vi riscaldate il cuore E state tanto tanto bello con la vostra famiglia Dai andiamo Mo vi faccio vedere come esce là Guarda qua Che bella densità Poi è bella bollente Bollente Mo ci andiamo a vedere un bel film Ci mettiamo le coperte addosso Con la bambina Con la famiglia E tutto Questo è il bello insomma dell'inverno Insomma poi specialmente qua in Germania Fanno freddo Guardate qua com'è bello Guardate qua com'è bello Guardate Guardate Allora io dovrei assaggiare Per voi Ok? Io già so il gusto com'è Ma è talmente bollente Che io assaggio Che mi scotto la lingua Ma Come già fa? Assaggio giusto un po' a po' Che amaria Ecco Come cosa? Mamma mia Come cosa? Guardate E' bellissimo Si deve bere bollente Mi raccomando Fatelo pure voi Per questa ricetta Mi raccomando Che bella Fino Romun Maria Grazie di cuore E domani Toccherà di sicuro A qualcuno altro ancora Io dedicherò Tutte le ricette A voi Per ringraziarvi Del vostro affetto Nei nostri confonti Guardate Un bacio Un abbraccio Da vostro leone Oggi abbiamo fatto La cioccolata calda Ma che non ci va Guardate qua Guardate qua Guardate qua Com'è cremoso Tietè Guardate qua Ci vediamo Alla prossima Guardate qua